Una diatriba che sta andando avanti da un po' di tempo e cioè quella nata in riguardo alle disposizioni fatte dalla regione ma soprattutto in seguito alle polemiche del presunto conflitto di competenza, sollevato da alcune associazioni venatori contro la provincia di Teramo. Il problema investe il regolamento per la caccia al cinghiale che è inserito nel contesto del calendario venatorio che è stato approvato da poco tempo. Nel calendario venatorio noi abbiamo colto un aspetto che poteva essere contraddittorio, cioè contraddittorio relativamente alla regolamentazione della caccia al cinghiale che è stato sempre compito della provincia e lì non si capiva bene se era demandato agli ATC. Allora noi abbiamo chiesto una nota esplicativa alla regione, all'assessorato alla caccia, al fine di poter avere delucidazioni chiare in merito anche perché poi potevamo procedere con un operato tranquillo, sereno e che presentava tutte le oggettività e questo noi abbiamo fatto. La programmazione è compito dell'ente istituzionale che è la provincia. Questo è stato riconosciuto ma quello che sembra di cogliere in pratica, qual è l'aspetto? Che c'è una certa distanza tra le associazioni venatorie, non tutte, e i cacciatori perché i cacciatori io li ringrazio noi la provincia starà sempre dalla loro parte, noi li abbiamo ascoltati per un anno intero, questo regolamento lo abbiamo fatto insieme, scritto insieme, più calzante, più vicino alle esigenze dei cacciatori stessi. La mia presenza alla conferenza stampa e sulla tv è solo diretta a confermare la stima e l'appoggio totale a quello che fa l'assessore perché ci sono dei titoli di giornale che sono veramente fuori luogo. Fermate l'assessore, catarra fermi l'assessore, davvero una esagerazione, semmai qualcun altro si dovrebbe fermare perché ha battuto il muso veramente malamente con delle ipotesi pretestuose.